Nessun luogo viene risparmiato dai ladri, ogni occasione per fare bottino è una buona occasione, luoghi religiosi compresi. Situazioni che si ripetono ultimamente anche dove prima era inimmaginabile che arrivassero a colpire i malavitosi per impossessarsi poi di pochi spiccioli. Obiettivo prediletto ultimamente le auto parcheggiate e lasciate per recarsi o sulla tomba del proprio caro oppure in luoghi poco trafficati come le strade di collina. Siamo sulla strada che conduce all'eremo di Montegiove e come vedete qui in questo spiazzo, in questo crocevia alle volte si lasciano le auto perché da qui si può partire per una passeggiata in tutta tranquillità ma questa è una situazione di estremo pericolo per le auto perché vedete in questo momento qui non c'è nessuno e sono un po' alla merced di malintenzionati che come è accaduto anche poco distante da qua al parcheggio più a valle arrivano, visionano e rompono i vetri per asportare quello che c'è all'interno delle auto. Nel bagagliaio se lasciamo le cose loro evidentemente lo sanno e sfondano il vetro, lo rompono proprio alla ricerca di oggetti che noi lasciamo all'interno delle autovetture. Vedete qua poco distante ci sono altre strade che si diramano da questo punto, tutte immerse nel verde e chiaramente una passeggiata di una mezz'oretta, tre quarti d'ora purtroppo alle volte si può tramutare in un episodio spiacevole. Si moltiplicano alla nostra redazione le segnalazioni di questo tipo, finestrini in frantumi per saccheggiare l'interno delle auto. È successo anche alla collina del Rosario in orario serale e sempre vicino all'erimo di Montegiove ed è successo sabato pomeriggio in un altro luogo di culto, il santuario del Beato Sante a Monbaroccio dove sul calare della sera la titolare del bar, nonché mamma del presidente provinciale delle proloco Damiano Bartoccetti, dopo una brevissima assenza al suo ritorno ha trovato in fantumi il finestrino della sua auto ed il portafoglio portato via, né più né meno come era venuto anche a Bellocchi qualche settimana dietro. I tempi cambiano, le chiavi sull'uscio della porta non si possono più lasciare, è il malinconico commento dell'anziana signora che ringrazia contemporaneamente anche le persone che poi ritrovando il suo portafoglio lungo la strada glielo hanno riportato. Facciamo mente locale dunque, anche quando siamo rilassati, non lasciamo nulla a vista nelle nostre auto e men che meno pensiamo di metterlo al sicuro all'interno del portabagagli ed allontanarci per una breve passeggiata. Un'auto in sosta in un luogo appartato è un possibile obiettivo per i ladri.